Ormai lo sanno pure i muri che Beatrice Luzzi è fuori dal grande fratello. Almeno temporaneamente. Non ci sono comunicazioni ufficiali. Ma pare che, il motivo personale, alla base dell'uscita riguardi il padre 86enne. Secondo quanto riferito dal sito Isechia, infatti, il papà dell'attrice si sarebbe rotto il femore ieri 20 dicembre. Lo stesso giorno dunque in cui l'attrice ha lasciato improvvisamente il gioco che da mesi ormai la vede protagonista. Sono passate parecchie ore dal post del grande fratello e tutto tace. Nessuna notizia di Beatrice Luzzi. I concorrenti iniziano a sentire la sua mancanza. Persino Anita Olivieri ha detto che il programma non ha senso senza l'attrice. E mentre il pubblico inizia a preoccuparsi di questo silenzio, nella casa è successo un qualcosa che ha dato fastidio ai telespettatori. A cena, nel bel mezzo della serata, Fiordaliso ha proposto un brindisi all'amica Beatrice e diversi concorrenti hanno detto la loro. Ad esempio, Vittorio ha detto, ti vogliamo più incandescente di prima. Mentre Marco Maddaloni ha aggiunto, giustamente, speriamo che è tutto a posto. Ma l'attenzione degli utenti è andata alla reazione di Rosy Chin e in molti hanno notato la sua faccia. La chef, seduta proprio accanto a Fiordaliso, durante il brindisi non ha fatto alcun cenno di sorriso. Anzi, è rimasta molto sulle sue, quasi scocciata, tanto che qualcuno ha scritto, la faccia di Rosy di Dicet.